La condizione delle strade, i trasporti, la pulizia delle città al centro della ricerca del Censis che vede le città italiane, tra cui Napoli, agli ultimi posti per vivibilità e qualità della vita. Il servizio di Michele Giordano. Trasporti, pulizia, condizione delle strade e degli edifici. Sofia e Bucarest più vivibili di Roma, Napoli e Palermo. Fanalini di coda in Europa per qualità della vita. Secondo il focus, città, la crisi dell'abitare e la mappa dei disagi, promosso da Conf Cooperative Habitat e realizzato in collaborazione con il Censis. Si tratta della rielaborazione di dati degli anni scorsi anche nei settori della famiglia e della realtà giovanile. Nella classifica per città, al primo posto Zurigo, con un giudizio positivo del 91% degli intervistati. In fondo alla classifica, Napoli con una media del 35% di gradimento e Palermo con il 29%. I giudizi per Napoli vanno dal 62% di valutazione positiva per gli spazi culturali, al 22% per pulizia della città e condizione generale. Inoltre, per quanto riguarda la realtà abitativa in Italia, più di 6 giovani su 10 tra i 18 e i 34 anni vivono in famiglia. Il 40% degli italiani chiede più comunità, ma 7 su 10 sono a disagio con uno straniero vicino di casa.